L'usita antico di Sagona si trova a 30 km a nord della città di Giaccio e a 200 metri dal mare e a 10 metri d'altitudine all'orlo di un fiume Sagona. Da 1973 a 2012 è stato scavato, usito e studiato. L'ultima campagna diretta da Daniel Istria hanno palizzato assai così nuovi e permettono oggi di capisciare meglio il luogo. Femmo insieme a oa un viaggio da storia, ma alla ritrosa, come di lancivati l'archeologo che hanno studiato i vestiti. Aiege che si vedava all'insagona è una aiege primitiva. Saria di un XVIII secolo è dedicata a Santa Maria e San Benedetto. Si sa che lo fu abbandonato e chiusito in fin di un medievo. Ed è detto arruinato in parte la cattedrale verso il 1520. La sedia sarà trasferita dopo invico con l'autorizzazione del Papa. A cattedrale alzata verso la metà del XII secolo s'appoglia è da giusto e giusto un antivundamento di aiege paliocristiana. Figliolando ciò che ferma in altezza, si riconosce un marco pisano. Un camposanto si è sviluppato intorno a aiege verso il XII secolo. Ci si trovano i sepoltori di vormi diversi, in anfora, sotto a tegoli o in cascione di petra. Sarona è fatta viscoate in 2591. Ci insegna una lettera di un Papa Gregorio Maiò cuo vato che ci volia ad organizzatore no studio ocesum che firmava da lungo tempo senza vesco. Un battistere è stato fatto in due prima medievo secondo l'istessu piano in croce cacquido di Amariana. È fatto d'un spazio centrale, quadrato, con quattro absidi intorno a Ede. Iscavani vato risorta il più vecchio battistero, una costruzione circolare con una vasca battismale a mezzo, otugunale all'indrente e tonda all'infora. L'ultimi travagli archeologici ci insegnano un'occupazione di usito a principio di un primo millennio. Tanto c'è una villa riorganizzata al quarto secolo. Verso a metà del quinto secolo una parte dei bastimenti sono abbandonati e una nicropola con un musoleo si sviluppa a mezzo ai ruini. A tempo guagi, la prima aiege è alzata gioendosi di costruzioni vetti come a stapsi di mezza tonda all'interno e a tre facciate all'infora. Stai e già, d'otto un metro e non t'avinti, sarei a stata dedicata a Santa Piano, niti stimunediani pareciteguli di avindio quinto secolo, portando a scrizioni Santi Appiani o bento Deo Paolus fecit.